Ciao, sono Shoot e Hates You e questo è Breaking Italy, lo show da lunedì al venerdì nel quale ti parlo di cosa succede nel mondo e prometto che se dopo questa intro raggiungiamo i 200 like, stasera andrò a tagliarmi i capelli. Camillo Langone è un giornalista del Libero. Ieri ha pubblicato questo articolo. A me piacerebbe rispondere al signor Langone che il suo articolo è stupidissimo e il motivo per il quale le donne in Italia non fanno figli non è perché sono troppo istruite e non vogliono fare le madri ma è perché una donna in Italia, anche se solo pensa alla parola maternità, viene discriminata sul posto di lavoro. Ma siccome sono sicuro che questo articolo è soltanto una cagata per colpire e cercare di vendere i propri, tra poco lo vedrete, interessantissimi libri e oggi come prima notizia faremo una veloce carrellata delle pubblicazioni di questo signore. Scambio coppie con uso di cucina. 2003. Scambio coppie con uso di cucina è considerato un piccolo classico della letteratura erotica italiana. Il collezionista di città. 2006. Tanto per chiarire, o per confondere ulteriormente le idee, il collezionista di città in parte è l'autore, in parte è colui che l'autore sogna di essere. La vera religione spiegata alle ragazze. 2007. Dodici lettere ad altrettante amiche dubbiose per spiegare l'importanza di indossare la croce, di battezzare i bambini, di allestire il presepe. Guida alle messe. 2009. Guida alle messe è uno straordinario viaggio, condotto con attenzione e rispetto da un acuto cronista del nostro tempo. Manifesto della destra divina. 2009. 2009. Difenditi, conserva, prega. Una difesa in controtendenza dei doveri contro i diritti, dell'obbedienza e del rispetto contro l'individualismo sfrenato che regola la società odierna. E in ultimo, Ben Godi. 2011. Ben Godi è uno stile di vita, non solo di mangiare e bere. Grazie a questo libro del gentiluomo italiano, e la sua gentilonna, chiaro, può scoprire cibi, bevande, vestiti e vizi che gli danno contemporaneamente l'identità e il piacere. Molto piacere. C'è altro da dire? No. Di fa era saltato fuori lo scandalo che la Apple con i suoi iPhone tracciava la posizione tramite la geolocalizzazione dei telefoni di ognuno dei suoi utenti. La Apple si era difesa dicendo che non utilizzava questi dati, né li diffondeva, fleflefliflo, comunque la rete era in sorta, giustamente, la gente si era scocciata, eccetera. Adesso salta fuori una cosa ancora più grave, o comunque grave allo stesso modo, nel senso che un ricercatore che si chiama Trevor Eckhart, americano, ha pubblicato su YouTube, vi lascio il link nella descrizione, un video che mostra la scoperta di un software in un sacco di telefoni, nativo, quindi che è stato messo dagli costruttori dei telefoni, ed è praticamente un keylogger. E praticamente dal video si capisce che le varie case costruttrici di questi smartphone, parlo di Blackberry, parlo di Nokia, parlo di HTC, ricevono delle informazioni dettagliate su ogni cosa che scrivete sul telefono. Perché per ogni tasto che premete, sempre e comunque che stiate scrivendo o no, la casa produttrice ne ha notifica. E se avete uno smartphone, molto probabilmente i vostri dati sono già lì. Le aziende si sono subito difese, dicendo che loro utilizzano questi dati non per monitorare l'attività degli utenti, anche se possono farlo, perché possono sapere cosa schiacciate, cosa scrivete alla vostra ragazza, in che siti andate, eccetera, eccetera. Ma li utilizzano per migliorare le prestazioni del telefono, migliorare la durata della batteria, controllare quando avvengono i crash, fla, 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 fla. Ciononostante la mia opinione è che questa sia un'incredibile invasione della privacy della gente, è che nelle case produttrice di tecnologia, nelle compagnie telefoniche per le quali i vostri dati passano, perché vengono spediti con la rete telefonica, non hanno affatto il diritto di avere tutte queste informazioni. Questa notizia, secondo me, è molto grave, non lasciamo che passi in sordina? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e vi aggiornerò quando ci saranno delle novità. Prima di parlare dell'ultima notizia, volevo restare nel mondo della tecnologia e mostrarvi una cosa che mi piace parecchio. È trattasi di un'estensione per vari browser, cioè per Google Chrome, per Firefox, per Safari, niente Internet Explorer, mi dispiace per voi che siete rimasti nel medioevo. E questa estensione funziona su YouTube e vi rende possibile vedere nei video correlati a destra il rating dei video prima di aprirli, così da sapere se state per guardare una cagata, tendenzialmente, o un video fake. La trovo una cosa fantastica, l'ho installata al volo e ho pensato che anche a quelli di voi che, come me, passano un sacco di tempo su YouTube, questa cosa avrebbe fatto risparmiare un sacco di frustrazioni e un sacco di tempo, soprattutto. Quindi, bam! Link nella descrizione. In ultimo parliamo di Anders Breivik, l'attentatore di Oslo, ve lo ricorderete. Il 22 luglio ad Oslo, in Norvegia, Anders Breivik ha ucciso 77 persone a sangue freddo, la maggior parte dei quali ragazzini sparandogli addosso dopo essersi vestito da poliziotto per difendere il puro Nord dall'invasione dei musulmani e un sacco di cazzate. Secondo la legge norvegese, ad una persona non si possono dare più di 30 anni di prigione, a prescindere da quello che fa. Ma in questo particolare caso il mondo chiedeva alla Norvegia di praticamente farlo a pezzi. Adesso salda fuori che Breivik invece non farà prigione. Gli psichiatri, infatti, dopo aver avuto per mesi dei colloqui con Breivik, ben 13, hanno affermato che quest'ultimo non è in grado di intendere e di volere, e durante il massacro nella sua testa non fosse chiara la differenza tra finzione e realtà, fosse un po' confuso, eccetera. E quello che io dico è chi se ne frega. Una persona che ha ucciso 77 ragazzini sparando loro a sangue freddo non può essere messa in nessun altro posto se non in una cella. Sinceramente io lo voglio dentro a una cella per sempre. Poi, a parte tutto, io credo nella riabilitazione della persona, quindi penso che il carcere non debba essere un'esperienza terrificante, non devi essere trattato come un animale, devi comunque rimanere una persona nella sua degnità, lo credo per chiunque, per qualsiasi cosa abbia fatto. Però devi essere tenuto lontano dalla società civile. Mi spiace, ma non sei in grado di vivere in una società civile, quindi... Oh mio Dio, il mondo è impazzito perché Lady Gaga ha deciso di spogliarsi per Vanity Fair, eccovi una foto! E alcuni dicono è troppo magra, altri dicono bel culo, e il mio fregacazzi dice, cara, ho sete, vuoi portarmi un'argarita? A questo, gentaglia, è tutto quello che voglio da dirvi per oggi. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere MEPIALLE, di metterlo tra i preferiti, di condividerlo su Facebook, Twitter, Google+, qualsiasi sia il tuo social network preferito, e di lasciarmi due commenti qua sotto scrivendomi, Uno, cosa ne pensi della situazione di Nokia che legge il tuo porno? E due, cosa ne pensi della situazione sullo stragista di Oslo, Andres Breivnik? La regina della gentaglia, come ieri, è Michela, perché è stata l'ultima ad aver mandato una sua candidatura. Conseguentemente, anche per oggi, adoriamo Michela, la nostra regina, almeno sinché qualcuna non deciderà di prenderne il posto. Vi avviso adesso che domani, venerdì, Breaking Italy potrebbe arrivare tardi, verso le 8 di sera, o potrebbe addirittura non esserci, perché potrei avere, come lo scorso venerdì, delle cose da fare, e quindi potrei non essere in grado di registrare lo show. Comunque, nel caso, ci sentiamo su Twitter, su Facebook. Io sono ShooterHatesYou, tu hai guardato Breaking Italy, grazie per aver guardato. Ci vediamo, non so. La vera religione spiegata alle ragazze. 2007. 12 lettere ad altrettante amiche dubbiose per spiegare l'importanza di indossare la croce, di battezzare i bambini, di allestire il presepe.